Ora, tifosi milanisti, una notizia urgente appena arrivata a Milano. I tifosi sono stati colti di sorpresa alla fine della giornata. Nessuno se lo aspettava. Ora vi racconterò tutti i dettagli di questa notizia bomba che arriva direttamente da Milanello. Ma prima, iscrivetevi a questo canale per non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra rossonera. Mario Balotelli si è offerto ancora una volta scherzosamente al Milan, ma ha sottolineato la sua preoccupazione per la dipendenza della squadra da Rafael Leao. Balotelli ha 33 anni e si avvia verso la fine della sua carriera, ma pochi hanno vissuto le esperienze che ha fatto lui. Ha vinto il triplete, Serie A, Coppa Italia e Champions League, nel 2010 con l'Inter, poi ha giocato con il Manchester City, dove ha vinto il titolo di Premier League e la faccia up. È tornato in Italia nel gennaio 2013, firmando per i Milan, prima di tornare in Premier League per il Liverpool 18 mesi dopo. Tornato in rosso-nero in prestito, è passato al Brescia nell'estate del 2019 e al Monza in Serie B alla fine del 2020. Balotelli, che ora gioca nella Dana de Mispore, è intervenuto in diretta su TV Play per parlare del suo futuro e si è offerto, in maniera semischerzosa, di nuovo al Milan, parlando di Leao che detta i ritmi della squadra. Il Milan aveva bisogno di un giocatore più giovane. Eccomi qua. Il problema del Milan è che i giovani che ingaggiano devono fare i conti con San Siro, che non è uno stadio come gli altri, servono giocatori con personalità, ha detto via calciomercato.com. Mi piace Pioli, ma se Leao non va bene, il Milan fa poco. Se Leao ha una giornata storta, sarà difficile per il Milan vincere. Ehi, tifosi rossoneri! Cosa ne pensate? Pensate che il Milan debba puntare su di lui? Lasciate la vostra opinione nei commenti, perché è molto importante per il nostro Leone.